farsi piccoli per divenire grandi chiunque si farà piccolo come questo bambino costui è il più grande nel regno dei cieli ci ripete gesù nel vangelo ecco il segreto per entrare nel regno dei cieli diventare come bambini ovvero accettare di vivere in una condizione di dipendenza e affidamento nei confronti del padre che nei cieli purtroppo anche davanti a dio noi adulti abbiamo sostituito alla fiducia il sospetto alla fragilità vissuta senza pretese l'ambizione di essere perfetti e l'illusione di non sbagliare mai alla spontaneità del bambino il calcolo spendiamo tante energie per controllarci per essere e apparire persone compite educate senza difetti e mancanze in concreto dunque cosa vuol dire farsi bambini conservare la spontaneità lo stupore la libertà del bambino la sua fiducia nella vita significa non aver paura di essere creativi di pensare cose mai pensate di buttare lo sguardo verso il futuro significa essere adulti che non temono di ammettere le proprie fragilità le proprie fatiche perché sanno che dio che salva significa essere adulti capaci di farsi solidali con i piccoli ovvero con tutti quelli che hanno bisogno con quanti fanno fatica a vivere offrendo loro il nostro braccio il nostro abbraccio la parola che oggi ci regala il vangelo e semplicità di cuore